Musica Oggi è il 20 settembre, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questo è il canale 17, come sempre tutte le mattine c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali in diretta e buongiorno chiaramente anche a tutti quelli che ci seguono nelle repliche durante il giorno, l'ultima delle quali è alle 13.30 Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi, oggi la chiesa ricorda i santi martiri coreani Il sole è sorto alle 6.46, tramonterà a 19.23, prima di andare a vedere il tempo uno sguardo al nostro sito internet occhiolanotizia.it nel quale come sempre vi ricordo potete vedere FanoTV in diretta, lo vedete qui sulla destra in basso al teleschermo, sopra il logo di occhio eccolo qua, l'auto in prima pagina c'è l'auto, la notizia del venditore di auto che incassa l'anticipo e poi sparisce, un denunciato, un fanese di 30 anni ma oltre a tutte le notizie, i video che pubblichiamo, che trasmettiamo in televisione potrete ritrovarli tutti qui nel nostro portale andiamo a vedere la pagina meteo con l'osservatorio meteorologico di FanoTV e diamo uno sguardo alla temperatura attuale sono 15 gradi, quindi per dire che anche oggi insomma sarà fresco, soprattutto nelle prime ore della giornata e poi subito dopo al tramonto questa è la webcam che potrete sempre consultare in qualsiasi momento con l'aggiornamento dei fotogramma e questa è l'immagine su Fano queste invece sono le previsioni per oggi, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento, non si escludono locali, brevi piovaschi nei settori montani domani, mercoledì 21 di settembre, torna la pioggia con locali rovescio e temporali nella mattinata, dalla giornata lungo la fascia costiera, ripeto, al mattino e negli apennini invece durante le ore centrali della giornata, in diminuzione le temperature nei valori massimi per la giornata di giovedì migliora con cielo sereno poco nuvoloso, temperature in diminuzione, le minime in aumento invece sono le massime c'è tempo stabile per il fine settimana e per la prima parte della prossima, quindi dovrebbe tornare poi il sole addirittura sabato e domenica a 25 gradi, forse una puntatina al mare per l'ultima tintarella, quella di fine settembre allora apriamo adesso i giornali, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, la pagina di Fano del Corriere anche oggi sullo scuolabus, è una tragedia possiamo dire, scuolabus allo sbando, paura e denunce alunni a casa un'ora dopo i genitori sono furiosi, del vecchio ha presentato un esposto ai carabinieri gli autisti non sapevano dove portare i bambini, il problema è all'uscita dalle scuole per la presenza di piccoli non trasportati all'andata, sotto i pulmini non sono passati a Ponte Sasso e a Fenile l'assessore Mascarini ha presidiato le fermate, oggi un vertice con la società Tundo intanto il Corriere pubblica la foto, un fermo immagine della diretta di ieri mattina proprio qui in questa rassegna stampa alle 7.40, vedete la di Rescalia, l'assessore Mascarini ieri alle 7.40 in diretta su Fano TV con Lino Balestra e insomma anche ieri è stata una giornata di prova ma insomma c'erano delle aspettative, insomma c'erano state delle prove anche sabato, domenica con questi pulmini nuovi quindi dal punto di vista della sicurezza sicuramente è una buona cosa, però ecco pare che è come se non sapessero un po' cosa fare dove stare, io non so se gli autisti sono del posto o non sono del posto se questo fosse il problema forse ecco, pensavo stamattina si potrebbe risolvere mettendo per qualche giorno davanti a questi pulmini una pattuglia della municipale oppure la protezione civile che conoscono il posto, conoscono le strade, conoscono i luoghi conoscono probabilmente anche i ragazzi e quindi potrebbero dare una mano nei percorsi anche e quindi aiutare gli autisti per qualche giorno a fare il tragitto poi una volta memorizzati, una volta conosciuti i ragazzi, la polizia municipale, la pattuglia oppure quelli della protezione civile in auto poi possono tranquillamente tornare a fare altro potrebbero essere d'aiuto, questa è un'idea che mi è venuta, non so se è fattibile la buttiamo lì, vediamo andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico di Fanno a Matriciana, l'iniziativa che c'è, un evento che c'è giovedì in Piazza 20 Settembre una spaghettata con show per raccogliere fondi per i terremotati giovedì c'è questo appuntamento in Piazza 20 Settembre con la somma di 10 euro tutti potranno gustare un piatto di spaghetti e dei dolcetti forniti e preparati con amore dai tanti sponsor e dai volontari in questa immagine il Corriere Pubblica Stefano Fucili e Luca Vagnini due cantanti, due cantautori fanesi alla presenza di questo evento che ci sarà, lo ripeto, giovedì tutta la città sul palco a partire dalle 17.30 si alterneranno DJ, cantanti e anche band ospedale unico, pressing sul sindaco se ha carattere aprirà la crisi politica l'invito gli arriva da Bene Comune e da Stefano Guzzi ma la osprona anche il compagno socialista Bruno Rapa secondo Giuliani, seria una pedina del Partito Democratico di Pesaro l'ex segretario del PSI di Cefano è ormai privata di tutto la città non è unita e non otterrà mai nulla lo sfogo su Facebook di Lippe per le divisioni contro il sito di Chiaruccia Niente fiori, sale la protesta degli esercenti di Via Garibaldi Orefice espone un grande manifesto ma il contento condiviso anche dai suoi colleghi Via Garibaldi, lo sapete, è una via in questo momento sotto restyling ci sono lavori che ormai proseguono da mesi Via Garibaldi ringrazia l'amministrazione comunale per l'ennesima esclusione dal centro storico questo perché tutto il centro, gran parte del centro è addobbata con delle piante, dei fiori che servono per questa manifestazione floreale e in Via Garibaldi non c'è una pianta non c'è un fiore e quindi c'è la protesta La pagina del Val Cesano del Corriere Adriatico Pergola s'affaccia sulla foresta nera il gemellaggio con Gernsbach si è trasformato in un'occasione di promozione turistica internazionale una delegazione guidata dal sindaco di Pergola, Baldelli è stata ospitata in Germania per presentare tutto il made in Pergola La contrada del Fosso festeggia invece i rossoneri vincono la cacciata Siamo a Mondolfo, successo per le due giornate rinascimentali il clou nel torneo del pallone con il bracciale Da Senigallia allagamenti ecco la mappa del rischio aggiornato il piano di assetto idrogeologico in crescita le zone sensibili i nuovi perimetri L'obiettivo è intervenire tempestivamente in caso di emergenza Quattro i livelli di allerta Questa riforma dalla pagina di Pesaro è un golpe bianco l'allarme dell'ex giudice imposimato che fa tappa a Pesaro nel suo tour per difendere la Costituzione il rischio dice è il combinato disposto con l'italicum si vuole asservire la magistratura al potere politico il deputato 5 Stelle Cecconi rilancia l'adesione al no e critica la legge elettorale Sotto invece la notizia è che Forlani, Ernaldo Forlani sta meglio è stato dimesso dall'ospedale il noto politico era stato colpito da un'occlusione durante le vacanze E sempre e ancora dal Corri Adriatico l'omaggio del comune alla signora del gelato Maria Gorini oggi splendida novantenne con il bar del Fiore assegnato a Pesaro un'epoca e poi l'ex AMGA un pozzo senza fondo servono altri soldi per la bonifica almeno 30.000 euro il comune ha già speso quasi 2 milioni per il terreno e per la falda trova l'amico cacciatore morto nella vigna un dramma che è avvenuto a Villa Ceccolini un uomo di 72 anni è stato colto da infarto e adesso il resto del Carlino la pagina di Pesaro in apertura bloccata l'invasione carabinieri finanze in azione venditori abusivi bloccati a Fano a Fossombrono invece è evitato il bis della fiera di San Nicola le pagine interne a Fano scuola bus un altro giorno di passione parte la denuncia ai carabinieri mezzi in ritardo bibbi lasciati a piedi e riportati a casa dopo le due del pomeriggio chiusa la chirurgia ginecologica bene comune tutto a Pesaro inutili le nuove sale operatorie intanto Savelli di Noi Città lancia l'allarme sui centri trasfusionali Leapette quindi bene comune dice Seri annunci le sue dimissioni se la città perdesse il suo ospedale Balzer di Poltroni invece in comune si cercano tre nuovi dirigenti occorre sostituire Mantoni alle finanze Fosse al territorio e Giangolini all'urbanistica e ancora quelle ragazze violentate che hanno cambiato la mia vita opera prima di un'autrice saltarese diventa un caso letterario l'uscita del suo libro è fissata per il 26 di settembre ma già da un paio di mesi sta suscitando un interesse straordinario tanto che le due librerie Feltrinelli di Roma ne hanno richiesto e ottenuto una fornitura in anticipo lei si chiama Maria Castaldo ed è napoletana di nascita e saltarese di adozione autrice di Il senno di poi un'opera prima che racconta appunto la storia vera di due ragazze vittime di violenza Ricci in Comune scusate in Giappone sulle note di Rossini Matteo Ricci il sindaco di Pesaro è in missione per il gemellaggio con Kakegawa dopo il voto del Consiglio l'orchestra sinfonica Rossini impegnata in una tournée con il tenore Masahiro Shinba e l'ultima pagina del resto del canino di oggi della nostra segna stampa è per questa storia di animali che ha raccontato Simonetta Cavalieri al Carlino la vedete in questa fotografia con una gatta randagia salvata dalla strada ebbene la sua intenzione era quella di adottare poi l'ha fatto in realtà per qualche giorno un altro gattino è andata a prenderselo dopo una serie di domande e quant'altro gliel'hanno dato e poi poi gli è stato tolto l'è stato tolto perché perché secondo il responsabile di questo gattile che le ha dato il gatto la casa non era sicura e c'è tutta questa storia che da una parte è un po' esagerata e da tutti e due da tutti e due lati sia dal lato della signora sia dal lato di chi le ha dato il gatto è un po' esagerato ma viviamo in questo mondo dove ormai gli animali hanno preso io amo gli animali ma insomma bisogna anche dirci le cose in maniera molto chiara insomma gli animali sono animali e le persone sono persone e purtroppo il mondo sta andando un po' alla rovescia detto un po' così in maniera populistica allora noi ci fermiamo andiamo in pubblicità poi tornano le repliche stasera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia vi ricordo che come sempre qui colgo l'occasione davvero per ringraziare tanti tanti di voi che ci scrivono ogni giorno ci segnalano quello che succede nei vari nella città di Fano ma anche nell'entroterra ci sono tanti segnalatori anche sparsi nella provincia di Peso Rubino continuate a farlo al 338 4968 250 anche utilizzando Whatsapp oppure la nostra applicazione che è gratuita e che potete scaricare sull'Apple Store o sul Google Play buona giornata e ci vediamo stasera Grazie a tutti